Ciao, sono Dalia, sono la vice campionessa olimpica giovanile sui 200 metri. Anch'io, con la mia federazione di atletica leggera, partecipo a scuola aperta allo sport. L'atletica mi ha formato sia caratterialmente e mi sta aiutando a crescere. Partecipo anche tu a scuola aperta allo sport e vieni in palestra con i campioni.